In questi giorni sto molto attento ad osservare come parliamo, come cerchiamo di dire quello che ci sta capitando, in che modo ci sforziamo ad esprimere il disagio e il dolore, ma anche lo stupore e la meraviglia per la situazione che abbiamo davanti. E ho notato per esempio che non si può fare una telefonata senza prima soffermarsi per un tempo che è sempre almeno 5 minuti sul coronavirus. Il come va di circostanza che accompagna l'avvio di tutte le nostre conversazioni e al quale in tempi normali farebbe un seguito, un tutto bene, abbastanza bene, così così, ora si dilata in un riepilogo sulle cause del contagio, le possibili implicazioni sociali, le risposte adeguate o meno del governo, la quarantena, le prospettive del futuro e così via. In quei 5 minuti io vedo un po' come il riassunto della nostra angoscia, però ho sempre la sensazione che quella angoscia non la riescono neppure a sfiorare. Ho la sensazione cioè che le parole non riescono ad esprimerla, abbiamo tutti questa sensazione, che le parole non possano fare nulla di fronte alla visione di cui stiamo facendo esperienza. Esperienza nel nostro intimo, quell'esperienza del vuoto che ci si parla davanti quando restiamo da soli con i nostri pensieri. Ed è una visione al tempo stesso terribile e meravigliosa, come direbbe Kant. Terribile ovviamente perché il futuro non ha più quell'aspetto rassicurante della freccia, che almeno nelle nostre illusioni cerchiamo, crediamo sempre di dirigere verso un punto premeditato. Ma è anche meravigliosa perché questo senso di vuoto ci dà la vertigine, ci fa barcollare, suscita in noi un sentimento di stupore dal quale veniamo atterriti e che ci lascia appunto senza parole. Ma questa per me è la cosa più importante, cioè penso che qualunque esperienza forte, vera, nel senso più autentico del termine, ci lascia senza parole. Tutti noi che facciamo teatro in fondo forse lo facciamo per questo, perché almeno una volta nella vita ci è capitato di assistere ad uno spettacolo davanti al quale abbiamo provato quella vertigine, abbiamo guardato sul burrone, sull'abisso, ci siamo spinti sul ciglio del burrone, abbiamo spiato insieme con altri spettatori delle profondità che erano insieme spaventose e meravigliose di quell'abisso e siamo rimasti senza parole. E credo che forse inseguiamo sempre segretamente il sogno di realizzare o di raggiungere quel momento, cioè mettere in scena, far accadere qualcosa sul palcoscenico che ci lasci senza parole. Però stavolta sembra che i tempi ci sovrastino, ci superino, ci stanno travolgendo da tutti i lati e ci chiedono di essere all'altezza. Questi giorni ho parlato con alcuni scrittori e sceneggiatori e tutti mi dicevano la stessa cosa, che era difficile, se non impossibile, tornare a lavorare su quello che stavano scrivendo prima. Le storie che avevano davanti sembravano improvvisamente invecchiate. Credo che succederà qualcosa del genere anche a noi che facciamo teatro. Come racconteremo questa esperienza quando sarà finita? Io credo che il futuro del teatro nei prossimi anni, se ci sarà dato, sarà così, cioè ciascuno di noi sarà chiamato a rispondere, secondo il suo talento, a questa chiamata, come dare voce a quello che abbiamo visto e provato in questi giorni. Non parlo ovviamente del virus, non parlo della malattia, del governo, della quarantena, dei morti e così via, ma dell'esperienza terribile e meravigliosa che ci ha ammutoliti, che ci ha lasciato senza parole. Grazie. 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 Grazie.